Oggi ci occupiamo della proposizione relativa. Vediamo subito insieme di cosa si tratta. La proposizione relativa è una subordinata, quindi già questo è un elemento importante, che si riferisce ad un elemento della reggente, perché se è una subordinata vuol dire che ha una reggente, e aggiunge delle informazioni. A questo punto tu mi dirai che, sì, insomma, è un po' come tutte le altre subordinate. Certo, ma questa è relativa. Cosa significa allora? Significa che questa subordinata è collegata alla reggente da un pronome relativo. Ti ricordi cos'è un pronome relativo? Dai, facciamo insieme un piccolo ripasso. Ecco qua, piccolo ripasso. Qui ci sono elencati i tipi di pronome relativi. Ci sono pronomi relativi che, cui, il quale, che poi può essere declinato in, il quale, la quale, i quali, le quali, eccetera. Poi ci sono i pronomi relativi misti. Il chi, che in realtà significa colui che, chiunque, cioè qualunque persona che, quanto, quello che, quanti, che invece è riferito alle persone, agli esseri viventi. Quelli che, quelli che, poi ci sono anche degli avverbi che possono essere utilizzati come se fossero dei pronomi relativi. E allora abbiamo l'avverbio dove e dovunque, ovunque è la stessa cosa, che significano in cui, in quel luogo, in qualsiasi luogo. E poi l'avverbio comunque, che invece significa in qualsiasi modo. In questa lezione noi ci occupiamo per ora solo dei pronomi relativi, soprattutto del che, che è quello diciamo più usato, più diffuso. Degli altri ne parleremo in una lezione successiva. Terminiamo quindi il nostro ripasso, cercando di capire bene, perché è fondamentale, a cosa serve un pronome relativo. Guardiamo questa frase. Pino ha mangiato una torta. La torta era squisita. Niente da dire, è una frase corretta dal punto di vista grammaticale. Però, rifletti un pochino. Sarà anche corretta dal punto di vista grammaticale, ma è proprio brutta. Che cosa è brutta? È brutta questa ripetizione. Una torta, e poi di nuovo, la torta era squisita. Allora, tu immaginati non un'unica frase, immaginati un brano dove tutte le volte io ripeto, tutte le volte che parlo di pino e della torta, ripeto la parola torta. Diventa veramente fastidioso da leggere. Ecco che allora io, che cosa faccio? Utilizzo un pronome relativo. Il pronome relativo non fa altro che evitare una ripetizione, perché io non dirò più Pino ha mangiato una torta, punto, la torta era squisita. Io dirò Pino ha mangiato una torta, che era squisita. Che, l'abbiamo appena visto, è un pronome relativo. E a che cosa serve? Serve a sostituire questa parola. Noi non ripetiamo più la torta, perché al suo posto abbiamo messo il che, che equivale anche a... Quindi, io dal punto di vista grammaticale posso anche dire Pino ha mangiato una torta, la quale era squisita. Però diciamo che il che è un pochino più snello ed è preferibile in questa circostanza. Quindi, il nostro ripasso ci ha portato a rivedere quali sono i pronomi relativi e a capire a che cosa servono. Benissimo, torniamo allora alle nostre proposizioni. Perché attenzione? Perché noi abbiamo visto che le subordinate spesso sono introdotte dal che. Adesso però non devi fare l'errore di pensare che tutte le volte che c'è un che, allora abbiamo un pronome relativo. Avevamo già ripassato questo concetto, però non fa mai male ripeterlo. Guardiamo le due frasi. Facciamo l'analisi come facciamo di solito. Ho incontrato è un predicato, vedevo è un altro predicato, quindi due predicati, due proposizioni. Poi qui ho già individuato il che, metto la mia bella sbarretta qui. Ho incontrato una persona principale che non vedevo da tempo, intanto posso subito scrivere che è una subordinata di primo grado perché dipende subito dalla principale. È esplicita perché il verbo è all'indicativo. Poi c'è il che, quando c'è il che è sempre esplicito. Guardiamo quella sotto. Mi hanno detto che ti sei divertito. Mi hanno detto è un predicato. Ti sei divertito è l'altro predicato. Questa è la mia principale. Che ti sei divertito è l'altro predicato che è una subordinata di primo grado e anche qui esplicita. Ma ora poniamo la nostra attenzione sul che. Ho incontrato una persona la quale persona non vedevo da tempo. Quindi io posso sostituire questo che con un altro pronome, la quale. Ho incontrato una persona la quale, questa persona qua, non vedevo da tempo. Questo è un pronome relativo? Sì, certo. Allora possiamo dire che questa proposizione è una subordinata di primo grado esplicita relativa. Guardiamo quella sotto. Mi hanno detto, principale, che ti sei divertito. Facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui. Possiamo sostituire il che con un altro pronome relativo? Direi proprio di no, anche perché per poter inserire la quale o il quale io devo individuare l'elemento che viene sostituito. Ma qui non viene sostituito proprio niente. Infatti questo che non è un pronome relativo, ma è una congiunzione. Mi hanno detto che ti sei divertito. Vedi che non c'è nessuna sostituzione? Allora, se questo è una congiunzione, questa subordinata, che cosa sarà? Andiamo a vedere. Dobbiamo sempre guardare la reggente. Mi hanno detto. A me hanno detto. Eh sì, soggetto sottinteso. Che cosa hanno detto? Che ti sei divertito. Ma allora questa subordinata è un'oggettiva. Mi hanno detto che ti sei divertito. Oggettivo. Quindi, attenzione bene, tutte le volte che incontri il che, ragiona su questo che. Fai le tue prove. Così non sbaglierai. Bene. Se hai capito che cos'è una subordinata relativa introdotta dal che, mettiti alla prova. Fai come al solito, ferma il video e poi, dopo che tu avrai analizzato da solo queste frasi, le guarderemo insieme e faremo la correzione. Fatto? Partiamo dalla prima. Raccontami, conosco. Raccontami una storia che non conosco. Raccontami una storia è la proposizione principale che non conosco. Ho il che. Questo che può essere un pronome relativo? Una storia la quale storia io non conosco. Certo. Allora questa sarà una subordinata di primo grado. Esplicita, perché il verbo è all'indicativo, relativa. Passiamo alla seconda. Il progetto che hai intrapreso è molto impegnativo. Anche qui abbiamo due predicati. Hai intrapreso è molto impegnativo. Attenzione però. Il progetto che hai intrapreso, vedi che qui c'è il che, quindi qui metterò la sbarrettina, è molto impegnativo. Allora, se hai fatto bene dovresti aver fatto in questo modo. Il progetto è molto impegnativo, è la principale. Ti ricordi che abbiamo visto che le subordinate non è che devono essere per forza legate una all'altra come gli anelli di una catena o gli scalini della nostra scala. Possono anche essere inserite all'interno di altre proposizioni. Questo è il caso. Quindi il progetto è molto impegnativo, è la principale. Che ha intrapreso, subordinata, di primo grado, esplicita, che cos'è? Guardiamo il che. Il progetto. Il quale progetto? Certo, questo è un pronome relativo che sostituisce la parola progetto. Quindi relativa. Voglio farti riflettere proprio su questo inserimento. Come mai questa subordinata relativa è stata inserita a metà nella principale? Se ne poteva fare a meno? No. Perché? Perché se ti ricordi il pronome relativo deve sempre stare vicino alla parola che sostituisce. Noi non avremmo potuto scrivere il progetto è molto impegnativo che hai intrapreso. Non significa nulla. Questo che, che è un pronome relativo, deve stare vicino alla parola progetto. Ecco quindi che questa subordinata è stata inserita, altrimenti la frase non avrebbe avuto un senso logico. Quindi stai attento a suddividere molto bene gli elementi. Non credo che tu sia sincero. Ecco ho fatto anche un errore di battitura. Perdonamelo. Allora, non credo, sbarretta, che tu sia sincero. Non credo è la principale. Andiamo subito a vedere il che. Questo che può essere un pronome relativo? Non credo il quale tu sia sincero. Direi proprio di no. Non credo la quale tu sia sincero. No. Anche perché nella principale non c'è nessun elemento da sostituire. Infatti questa è una subordinata di primo grado, esplicita, oggettiva. Che cosa io non credo? Che tu sia sincero. Vediamo alla penultima. Vorrei sapere che cosa ha detto. Attenzione, ti ricordi? Questo è un verbo servile. Quindi, vorrei sapere, che è la principale, va tenuto insieme. Non sono due predicati diversi. Bene. Vorrei sapere. Che cosa ha detto? Vorrei saperlo. Questo che non è un pronome relativo, perché di nuovo qui non c'è niente da sostituire. E' una congiunzione che introduce una interrogativa indiretta. Che cosa ha detto? Lo vorrei sapere. Ti ricordi? Che cosa ha detto? Questa potrebbe essere trasformata in una domanda. Finiamo con E' importante che si seguano le regole. E' importante un predicato, si seguano un altro predicato. E' importante. E' la nostra principale. Veniamo al che. E' importante che si seguano le regole. Può essere un pronome relativo? C'è qualcosa da sostituire qua? Direi proprio di no. E allora che cos'è questa? Che cosa è importante? Che si seguano le regole. Attenzione, se mi faccio solo questa domanda potrei scrivere oggettiva. E farei un errore grave. Andiamo a vedere la sua reggente. C'è il soggetto all'interno di questa reggente? No. Perché è importante. E' una forma impersonale. Chi compie l'azione di essere importante è il fatto che si seguano le regole. Ecco qual'è la subordinata che fa da soggetto. Bene. Vedi che ti ho messo delle frasi diverse tra loro per darti la possibilità di intanto ripassare degli elementi che abbiamo già visto. E poi per farti vedere che è molto importante ragionare bene sul che perché il che può avere tanti tanti significati diversi. Cosa abbiamo imparato in questa lezione? Che ti ricordo è solo una prima parte. Abbiamo imparato a riconoscere un pronome relativo. Abbiamo anche ripassato quali sono i tipi. E poi abbiamo imparato a individuare una subordinata relativa introdotta dal pronome che. Ti auguro buon lavoro e ti aspetto alla prossima. Iniziamo. Iniziamo.